Signore e signore, non solo buonasera e bentornati a Marco Plessio Super Smash Brothers Ultimate Nella scorsa puntata abbiamo attraversato tutta o quasi la base segreta Sbloccando anche se neanche dei personaggi Sconfiggendo il boss che era il nostro caro amico Galion, se non sbaglio si chiama Da Brawl, da Super Smash Brothers Brawl E quindi abbiamo indebolito un pochino il nemico Kirian Non mi ricordo come si chiama effettivamente la versione italiana del gioco O comunque sia, Kirian, vabbè, chiaro, Kirian, come vuole chiamarsi lui Il che ci ha permesso anche finalmente di poter tornare indietro Nello spiazzo dove c'erano altri due personaggi a sbloccare Ma che erano stati bloccati come strade da una delle Master End Il che ci ha permesso di sbloccare un altro personaggio Gli altri personaggi e di poter proseguire su altre strade Ora, cambio di sorgente come al solito Un secondo Che sto mettendo anche su Twitch la chat Un attimo, perché così siamo pronti al 100% Eh, si può andare adesso, ok Quindi, vediamo dove andare Qui Un Heracross Allora, un attimo Ma se facciamoci prima questo risoro, va? Questo sembra essere abbastanza... È facile, è facile Quindi lo facciamo con... Ma sì, Niava E iniziamo maxi Così, tanto per... Andiamo un pochino... Aspetta, le condizioni Va bene Giustamente, vedendo che ci sono tante asce Utilizzano lo Simon Giustamente Simon Sette c'è gli standard E quindi utilizzerà... Mi sa che ci sarà un abuso di asce Via! Ah, sì, sì Sì, vedo che già si inizia Vorrei... No, perché vorrei... Madonna, che trema anche il ponte Ok, due E un altro E un altro No Perfetto Come tremava però il ponte dell'isola di Wisport Resort Ok, va bene Balloon Fighter Questo... Incontra a tempo Vinci entro il tempo limite Il nemico usherà più mostre speciali in su La capacità di risalto del nemico aumenterà Va bene Quindi facciamo con... Visto che difesa ci vorrà tipo... Ecco, l'oro più Ma sì Facciamo così Ecco, per l'appunto Facile Non mi hanno fatto neanche danno alla fine Vabbè, era una cacchiata questa Ottimo 10 sferabilità Ho fatto bene a venire Va bene Era cross Adesso è il tuo turno Quindi vediamo Terreno Allora, un secondo Perché va bene Giustamente era cross Il terreno è appiccicoso Diminuisce la velocità e salti Le lanci del nemico saranno più potenti Beh, grazie, sì La potenza di attacco del nemico aumenterà Accade se infliggi molti danni Ai, 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 ai Quindi, un attimo Terreno appiccicoso Vediamo un pochino Madonna Ok No, un attimo Maxi Dobbiamo vedere per... Scusate Terreno appiccicoso Ho qualcosa per il terreno appiccicoso Oh, perfetto Sì, sì, sì Alla grande Alla grande Ah, sì, ce l'avevo già Giusto Non è la prima volta che incontro Che c'è uno scontro Con il terreno appiccicoso Adesso mi ricordo Va bene Vediamo un pochino Va bene così Proviamo Pronti? Via Oh, cacchio Bowser Non l'avevo ancora visto Bowser Posseduto Madonna Tutto rosso Non solamente i pupini Ma proprio tutto l'occhio Poi Se non mi attacca Eh Ma puoi anche farmi danno Non è che... È vietato fare danno Bowser Scusa Ecco Finalmente Oh Aio Olè Andata Che cacchio di scontro del cacchio però Lui pure è buono Come spirito Tutti meno di Morag Comunque Povera Morag Livello 1 Va bene Andiamo un pochino qua Che su... Oh Oh Allora un secondo però Vediamo un attimo Ma sì Dai Anche perché tra l'altro qua Dove vai vai Sblocchi Cioè C'è comunque uno scontro Perché proprio Tutte le strade si incontrano qua E da ogni parte c'è uno scontro Contro un Uno spirito Allora un secondo qua Ok Vediamo le altre caratteristiche La mossa speciale in su del nemico Sarà più potente Il nemico sarà più Mossa speciale in su Ok Sì perché Ah beh eri solo sì Da Super Princess Peach Princess Stavo per dire Dopo aver saltato Il nemico cadrà più lentamente Eh sì Giustamente Un gioco con sentimenti Super Princess Peach Vabbè Dopo la battuta del cacchio supremo Direi che Si può anche andare così Sempre con Il trainer di Wii Fit Ma perché no All'attacco No aspetta ho sbagliato Dove ho mettere maxi Perché Vabbè Ok 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 Vabbè Anche Senza un setup ottimale Ce l'ho fatta Tranquillamente Bene Bene Perché l'ho urlato così Bene Vediamo Che è che si sblocca qua Allora Ci sta Yoshi Facciamo le cose come si deve Questa volta però Via Ma se stessa abilità Diciamo Tanto non c'è problema Madonna Io ho cinque tante No 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 All'è Facile E mi sa che adesso Vado un po' con Yoshi Questa Quanta sferabilità Ma andiamo Quindi Sì Oh Danneggiato ancora No Aspetta No Altro che danneggia Ah Boss Ha lanciato un boss così Deve essere Dracula di Castlevania Perché sembra un bel castello lì Ok Vabbè Non che ci interessi molto Per adesso Perché è ancora Lontanuccio Possiamo? Grazie Allora Attività Ah attività Oh giusto L'esplorazione è qua Giusto 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 Allora Che avete trovato belli? Va bene Ammazza quanti livelli si sono fatti così Vediamo Che altri posso mandare qua? Va bene Scusate Poi Subito Va benissimo Cacca è vero che adesso è una leggenda anche come Alucard qui Wow Dico leggenda Della Leggenda come difesa Cioè di quelli che hanno abilità principali difesa Vediamo Vediamo Lau Vediamo Tira piedi di Metalite Sì Scusate Sì va bene Poi Uno Guerriero E poi L'ultimo Ah L'ultimo contenuto Board Uno dell'ultimo contenuto Board Cord Barst Sì Va benissimo Via Continuo Nessuno Nessuno invece ad allenarsi per il momento Ok Quindi Qui da Da Kirby and Rainbow Course Direi Ah giusto 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 Formazione dobbiamo fare adesso Con Yoshi Ah quanti personaggi Ce ne abbiamo già Quattordici Ne mancano Ne mancano Soltanto Ne mancano Soltanto Sessantuno No Sessantaquattro Sessantaquattro Sessanta Vuol dire Scusate Perché La pianta piragna è speciale Non è contata Yeee Altri sessanta personaggi A sbloccare Ok Vediamo un pochino qua Ah Normale Quindi direi che come setup Questo va bene Possiamo andare Ah Mini Era pure Ho fatto benissimo Allora Mettermi Vabbè Non è durato niente Ma vabbè Ok E liberati un po' là Ma facciamo anche questo Ah Beware Giustamente Lo interpreta Donkey Kong Perché Chi altri Vediamo Il nemico avrà una super corazza Ma sarà più lento Al lancio di una pokeball Appeneranno solo Il termine di pokemon Giustamente Direi che si può fare Direi che si può fare così Partiamo Pronti Pronti? Via Aio Aio Una cacchiata Una cacchiata di scontro Questa Vediamo Vediamo Incontro Incontro Un'altra caccia Riduce a 0 dps Del nemico Il nemico Inizierà L'incontro Con uno steel diver Direi che possiamo andare anche così come siamo Perché Potevo mettere ad esempio quello che mi dava un po' più di energia Però non è che Non credo che mi si veda così tanto E fu così che persi Ecco per l'appunto Oh bene Adesso si ragiona Ma quando dai mi vanno qua? Mi lasciate in pace Perfetto Dai che manca Vabbè Poteva essere più facile come scontro Potevo farlo meglio Vabbè E' andata anche questa Prendiamoci il nostro Ah anche lì No aspetta là non posso ancora mi sa no? Vediamo Eh appunto Serve qualcuno che mi possa Che posso utilizzare come Ponte in qualche modo giustamente Cupido Questo Ma si ancora nemico Costera più mostre speciali standard Giustamente Andiamo Così Pronti? Via Non è andato Ok Via Tutte e due Eeeh Sbattote una parte all'altra Però comunque se ne sono andate Ok Quindi Eh si Merrick da fare emblem Ehm Quindi questo invece Serve attacco Andiamo un po' qua Gli attacchi magici Nel nemico Saranno più potenti Nel nemico Sarà più mostre speciali Vabbè Possiamo andare anche così va Ovvio No Ottimo Va benissimo Va benissimo No Meno male Meno male che non fa la combo Di fuoco E poi spada Di spadare Ah Andata No Va bene No 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 Meno male No 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 Meno male non ha combinato con la spada Perché se non era finita Dai Benissimo Lui è Lucaio Oh Un attimo Pronto Pronti Via Vittoria Fatto Va bene Però grazie per le Quante erano 8 9 Sferabilità Grazie 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 Troppo buoni Ma da proposito Visto che comunque sia C'è sempre la visola Quante ne ho Eeeh Qualcosina si può fare Allora Vediamo questo qui È per Durata di trasformazione No Proviamo con Doressa Atterraggi Diminuita Anzi no Facciamo questo Perché Consumer Am Tantissimo Ce lo leviamo subito Così poi possiamo fare altro Via Andata Ma si Facciamolo Pronti? Via Via Vai Accidente Ciao No Ciao Sì Oh oh Questo è uno scontro Buono Ah Sarà più facile Lanciare tutti O uno scontro Finalmente più Complicato Ok Proviamo così Tra l'altro Yoshi contro Yoshi Proprio siamo È perfetto Pronti Via 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 Che bello E se che è più facile lanciare tutti Mamma mia No Si riprova Eh prima difficoltà Dopo Quanto 25 minuti adesso che sto controllando Che sono state abbastanza facili Ok 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 Oh eh Un altro andato Ficca vabbè 65 però Però questo si Ok La seconda tentativa è andata E non neanche tanto difficile Alla fin fine Vabbè io avevo Wario Man Un Wario Man Che deve ancora fare No aspetta Wario Man a che livello è? Che non ho visto Vediamo un secondo Justice Spirit Potenza Wario Man A che livello è? Hanno 71 Quindi Deve ancora Cioè È a base A livello alto Però può ancora fare Andiamo qua Sogno Averto Da Mario Luigi Sì 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 Da Mario Luigi Dream Team O come è stato chiamato Qui da noi Perché Team Non era sufficiente Dream Team Bros Perché Giustamente uno mica capisce Che Team È un gruppo No ci vuole anche il Bros Perché sono fratelli Vabbè Ah soporifero Aspetta un attimo Allora intanto mettiamo Ok Poi No Ho qualcosa per il terreno soporifero Oppure no Niente Ah Quindi non posso Maledizione Ah No 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 Il castello era vicino invece Io pensavo che fosse lontano invece Wow Allora a questo punto Facciamo altre strade Per curiosità Quindi ad esempio Se vedo È Pico Da F0 Sì E il nemico inizierà l'incontro Con una pistola a raggi Di maggiore potenza Ok ci sta Vediamo cose che abbiamo Va bene Pronti Via Madonna Vabbè però Va bene Che scontri difficili Vabbè dai Questo era proprio complicato Sì Non pensavo che ce l'avrei fatta No Va bene Va bene Cacchietta a parte Ok Sì sì Vi siete fermati Per Che Eh Cosa Che succede esattamente La luce filtra dalla fenditura Sbarrandoti il passo Ah Bene Quindi di qua Eh no Non si può Bene A posto così Va bene Quindi Di qua Di qua che c'è Eh Eh Di qua chissà che cosa mai ci sarà Se c'è addirittura una luce Che ti sbarra la strada Quindi Vabbè facciamo Contro Weezing Giustamente Chi potevano scegliere Per avere Per il pokemon Che crea la nube tossica Ma Wario Wario It's a me Wario Madonna E nube tossica Dovrei avere qualcosa Per nube tossica Allora controlliamo Ok Dovrebbe essere questo Sì A posto Nooo Ma che finale del cacchio Pre-Wario Ole, quindi noi siamo qua Ah, abbiamo anche un veicolo Veicolo volevo dire E da Street Fighter, Yuri, interpretata da Bayonetta, giustamente Quindi incontri una dell'energia, riduce a 0 EPS il nemico, ci sta La potenza di attacco il nemico aumenterà, accade se infligge molti danni Il nemico userà più mosse speciali laterali, giustamente ci sta, visto chi è Ok, quindi Maxi Si va Ok Ok Facile Biorex da F-Zero Interpretato da Wolf perché il nemico diventerà più potente mangiando del cibo Ok, alcuni strumenti appariranno in gran numero, accade dopo un po' Teniamo le cose così come stanno, partiamo Pronti? Via! Ok Ah, per poco Vittoria! Non ho capito Perché sarebbe andato giù poi? Non ho capito proprio Eh, 10 sferabilità, sì Ok, con lui quindi Si va Ah Ah, ok, è così, va bene La velocità di tutti aumenterà molto, ma fermarsi richiederà più tempo Giustamente ci sono Ness Fa, sì, Falco Fox e Sonic, giustamente Vabbè, Ness Per velocità Vabbè, forse perché è il Mii Non ho capito Fox e Sonic invece sì che ci stanno per velocità Proprio perfetti Pronti? Via! Facciamo subito Le due Ma mi sa che il mio setup che è proprio inquietante Perché ho Maxi e Fiore Quindi il Fiore già di suo Non solo comporta danni sul momento Ma anche prolungati Ed ha anche un bel potere di lancio Poi Maxi aumenta già ulteriormente E mi sa che McRider Eccoci qua Ovviamente Captain Falcon non lo fa La velocità del nemico aumenterà Il nemico inizierà l'incontro con un Nintendo scope Sì, sì, ci sta Ci sta Famo così Stessa qualità Pronti? Via! Va bene Sì, è un setup sgravo Mi sa che è un setup sgravo Mi sa che sono io ad essere Con Gli spiriti un po' troppo forti per Per l'occasione, va? Va bene Motociclista di Exile Bike Ok, due Sì, però prima cambiamo Perché ho già fatto abbastanza con Yoshi Voglio provare invece adesso Lucario Visto che È l'ultimo versione del gioco sbloccato In ordine cronologico Quindi Lucario Eccoci qua Si va Ecco Già si parte Ok Ok Facile anche questo Ok Gyro Wing Sì Da Star Fox Zero Questo Jetpack giustamente Ok Allora Un secondo Solo Maxi per questa volta Andiamo Pronti? Via Ok Ok Che poi nel momento Per come funziona Lucario Per la sua aura Io non è che sia tanto forte In questo momento E però Ma che brutta fine Dopo il lancio del laser No Ma che fine Orribile Fox Dai Troppa tosse stasera Bene Sto arrivando capitano Perché Siamo su una pista Con tanto di veicolo Di F-Zero Utilizzato È inevitabile Che personaggio a sbloccare qua Sarà Captain Falcon Quindi Uno dei miei main Tra l'altro Ok Terreno nitrificato Aia Terreno nitrificato Aia Vediamo un pochino Intanto Sì Poi Perfetto È sempre La bacchetta di Lipo Perché serve sempre O quasi Partiamo Ok Ok A posto Ottimo Aha Oh capitano mio capitano Eccoti qua Capitano Capitano Allora Quindi subito Via Così Pronti? Via Via Così Va bene E quante sverabilità Però Eh Ah Va bene Ma intanto Mi devo fare anche questo E Sì là Oh cacchio Questo 3 Ok Il nemico potrà utilizzare Improvvisamente Lo smash finale I rinforzi appariranno Durante l'incontro Oh cacchio Vabbè Tra l'altro Neutro come Spirito Quindi Andiamo di forza brutta Ma in tutti i sensi Quindi Capitano Proviamoci Dai Eccolo Non stavo caricando Né le immagini di Ken Né tanto quelle dello scenario Perché Perché così Pronti Via No No Eh no Eh eh Ui Vabbè Non mi ha fatto neanche tanto Però Oh cacchio No Sì Ottimo Questo va benissimo Ok Una grande Au E il grande Ginocchio Inchinato Di fronte al ginocchio Ok Ciao ciao Avevo anche lo smash finale pronto Ma Non è servito Oh capitano Adesso si che ci divertiamo Benissimo Quindi dovrei Allora un attimo Perché vabbè Torniamo indietro Un bell'Octoling Quindi Incontri Modalità Energia E luce a 0 EPS Dal nemico Ok Il nemico Non mi sono la più Mostra speciale Standard Ci sta Ah Allora Semplice Via Madonna Mamma mia Benissimo Visto che abbiamo liberato Questo Oh Ah vabbè Abbiamo fatto il giro Praticamente Buonissimo Quindi Trombone 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 Perché no Quindi Una battaglia senza Dicuzione di colpi Giustamente Interpretata Da 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 Wendy Visto che anche lei Utilizza un aggeggio Meccanico Per muoversi Cioè Hanno qualcosa In comune Un minimo Almeno E ci sono anche Di roba Giustamente Via E con musica We are di robots Da Mega Man Vabbè Pronti Via Cioè We are robots Wait Benissimo Qua il giro è stato fatto Quindi Se andiamo Da questa parte Sì Sì Anche Quest'area Ok A posto Bene Facciamo Lì Lì Non la faremo Quindi Cambiamo Quindi Le attacche di fuoco Le esplosioni del nemico Saranno più potenti Il nemico Usa la piumossa speciale laterale E rinforza Pariranno durante l'incontro Devo capire Cosa cacchio abbia Ma sì Andiamo così Pronti Via No Andata Andata Dai Accolli No Che cacchio peccato No Semplice Semplice Vediamo Oh sì 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 Ciao Fiora Benvenuta Quindi abbiamo Ah No non conviene La potenza è troppo poca Quindi possiamo fare Sì 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 Va benissimo così Quindi vediamo un attimino Ah Vabbè Facciamo Lucina Interpreta Fiora Dai Signore Decrone Che cosa C'è giustamente anche Shulk Au No Ok perfetto Salve No 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 Oh Perfetto No 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 La difesa è di nuovo Ah Ah oh No 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 Meno male No No Ho sbagliato lo smash finale Maledizione No Cacchio Cacchio Vero lo scontro però No Vabbè Qua Purtroppo ho sbagliato Ciao Bernacon Benvenuto Qua ho sbagliato Volevo fare in su Invece ho fatto La B standard Scusate un attimo Un secondo Un secondo Un secondo Un attimo che sto Sto facendo alcune cose Un attimo E prendo subito E prendo subito Eccomi qua di nuovo Ok Perfetto Perfetto Meno male Non so come Mi si è salvato Uy Sì 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 Perfetto Ah Uy E non è andato E non è andato E non è andato E non è andato E non volevo neanche farlo Mamma mia Che bel falcon punch Benissimo Miltank Ah giustamente Un Jigglypuff con il cappello Del centro pokemon giustamente La mossa speciale standard Del nemico sarà più potente Ok Del nemico sarà più mossa speciale standard Normale Logico Allora facciamo Ma si va Si si io cerco di battere tutti quelli che trovo sulla mia strada Poi ci sono quelli che provano stile Ah Ok perfetto Accidenti No Ma no La me No E che diamine No E' rimbalzato Jigglypuff rimbalzato su di me Mannaggia Vabbè Andiamo Ok E questa volta no però E questa volta no Quindi Inclinando lo stick in basso Mentre sei a mezz'aria Esegui una discesa rapida Che infligge da Infligge da Oh Bello 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 Poi Donne Resetti Quindi Il nemico inizierà l'incontro con un martello Scosti di terremoto fanno tremare lo scenario Il nemico prendere il martello per molto tempo Ah Allora facciamo con Luigi Va bene Aspetta E c'è l'ino Utilizzavo da un po' Quindi ci può anche stare Andiamo Ah Ma cacchio Ah Comunque fa poco di danno Anche terremoto va bene No Che cos'è questo scontro Quando finì Quando è che finisce Ok Ah io Ah Comunque Ho capito la mossa Una delle mossa Ah io Oh Il ginocchio inchinato Davanti al ginocchio Ecco A caso Mi è venuto a caso proprio Questo invece no Ui Ok No E così ti impari E vai Bene Che è il personaggio da sbloccare qui allora Vediamo Aspetta Qui vediamo Uh Anna Anna Va bene Oh link Eh subito allora Quindi Facciamolo Proviamo così Via Pronti Via Vabbè è veramente un setup sgravo Però questo Per molti scontri è un setup veramente sgravo Ormai ho capito Perché Maxi fai più danni Il fiore ti fa danni ulteriori Eh che cacchio però Non c'è niente qua Non c'è niente Nient'altro va bene Quindi sconfiggiamo Sconfiggiamo anche Anna Eh sì Tutte le armi che infliggono danni fisici saranno più potenti Accade dopo un po' Lightbox è bella grande Gli strumenti flutteranno verso il nemico Ah Va bene Facciamolo Così Ma sì dai Pronti Via Ah ma un secondo Questa Se non sbaglio Vabbè Vittoria Va bene Ma ne ha per caso il tema di Codename Steam L'unico tema di Codename Steam nel gioco Che è un remix di quello di Fire Emblem Tra l'altro ricordiamolo Proprio perché dovevano mettere qualcosa di Codename Steam E quindi hanno pensato Oltre gli spiriti ovviamente Hanno pensato Ehi mettiamo una canzone di Codename Steam Ma quale mettiamo? Ma che dici di quella di Fire Emblem? Eh sì tanto ormai Ed era disponibile anche l'Emporio di Oh andiamo a comprare Che ci offri bella Anna? Ciao Manca te Uh 93.000 Disfrutto Eh sì che disfrutto Poi anche Questo Orrore Vabbè Attacco con arma più Ok quindi aumenta l'attacco con le armi Ma sì Compriamo tutto quanto Vado che ci siamo Ok Sì 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 Tanto poi tornerò Gracchio bombo Da Yoshi's Island Ah vabbè Scontro alla pari quindi No forse non tanto perché Io sono all'inizio maxi Lui sarà di sicuro alla maxi dopo Forse già all'inizio Comunque sia prolungato Vabbè vediamo Ah no maxi quindi dal principio Ok Perciò sarà scontro alla pari all'inizio E poi Dispari In seguito Vabbè Madonna Big boy Vittoria Sì poi vedo meglio quello che fanno Quelli che ho appena preso Comunque Scusate ma è finito lo scontro Appena iniziato Vabbè Veramente il setup è troppo Sì che tra l'altro Veramente effettivamente Come diceva Berna Con le headbox Di un certo tipo Perché colpisco In modo abbastanza certo E anche Non da troppo vicino Cioè Anche Non essendo Proprio Attaccato Va bene Vediamo qua E il nemico Potrà muoversi subito Dopo una mossa paralizzante Allora Facciamo un po' Ma si Non è che abbia visto Di tutti quanti Anzi di pochi Ho visto proprio le caratteristiche Quindi vediamo Infliggi i danni Agli avversari Con cui ti scontri Va bene Poi Steel dive Va bene Con gli steel diver Poi Ah la scatola Bella scatola Non ha presa Quindi Ripresa rapida Non ha preso Uno stordimento Va bene Poi attacca ora più Aumenta un po' la potenza Gli attacchi aura di lucario E questo per lucario È perfetto Poi va bene Aumenta un po' la potenza Delle esplosioni E degli attacchi Di fuoco Come Palla di fuoco Di Mario Va bene Poi per miltac Invece Eh giustamente Allora Ma si poi Vediamo un pochino Allora Aumenta un po' la potenza Di spade Fruste Martelli Armi che infliggono Danni fisici Ok Si 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 Mister Saturn Salto più Spostamento più Danni da veleno ridotti Va Buono Ho due Nella Ah garantisce Unità da cadute Ah Eccola qui Quella che mi sarebbe servita In teoria Nell'altro scontro Che ho fatto Quello lì Contro Donno e Resetti Però Non è stato Però Ce l'ho fatta Tranquilissimamente Anche senza Poi bottiglia Della fata Come ti fa fatta Ti cura Se subisci Da più del 100% Di danni Poi fiore Inizia l'incontro Con una scatola Punto esclamativo Ah beh Quindi Giustamente Inizi metallo Giustamente Visto che Giustamente Un mosto speciale Laterale Più Poi Peach esposa Cura d'emergenza Ti rigeneri Moltissimo Quando raggiungi Una certa quantità Di danni Anche questo Un mosto speciale Standard Più Aumenta la potenza Delle mosto speciali Standard Ok Direi che per adesso Va bene Allora un secondo Va bene Proviamo questa Quindi Quindi ripetiamo Inclinando lo stick In basso Mentre sei a mezz'aria Esegui Una discesa Rapida Che infligge Danni Ok La voglio La voglio provare Quindi vediamo un pochino qua Va bene D'accordo Andiamo Andiamo No Scusate Che voglio Madonna Vabbè comico però Arrivo Più Meno male Che c'era il tronco Vabbè Ciao ciao Quanti spiriti Dici E allora Dovrei essere Sui 320 330 Si Non è poi così tanto Rispetto ad altri Che magari hanno già completato Robbio tutti E 1300 Però Diciamo che io Il gioco Lo sto giocando Principalmente per il multiplayer E gli spiriti Li sto facendo O con Per l'appunto Queste puntate Settimanali Dedicate a un'avventura Oppure qualche volta Quando mi metto Con il pannello degli spiriti Aspetta fammi vedere Magari Ho l'elenco qua Di SSC spiriti Vediamo un pochino Se c'è il numero No Non ce l'ho purtroppo Per ogni caso Vi posso dire che Sui 320 Ci siamo Sicuramente Forse anche 330 Però 320 è il numero sicuro Di spiriti che ho in questo momento Ok Ah 500 punti spiriti a posto Benissimo Quindi Un po' di qua Allora Facciamo una cosa Vediamo un pochino Direi Facciamo anche Snakeman Allora Vediamo un secondo Incontri modalità Energia E giustamente Lo fa Snake Giustamente Incontri modalità Energia Riduce a 0 Ips del nemico Il nemico Però facilmente Distratto dagli strumenti Allora Facciamo una cosa Un po' più potente Cato di istantanea Perché mi fa troppo ridere E poi però Come personaggio Un attimo di pausa E mettiamo Megaman Anche perché così Siamo a tema Andiamo Non mi fa troppo ridere E poi Oii Que cacchio No Ok Ottimo Mmm Ah Non tanto difficile La fin fine va Quindi Fatto questo Voglio fare una cosa Andiamo Prima un secondo Al tubo Al tubo Che sta da quella parte Giusto per vedere Dove porta Perché qui Posso andare No Non posso neanche andare Al lago Perché serve qualcuno Che sappia guidare Qua Quindi Andiamo al tubo Non andiamo al tubo Perché tanto è bloccato Ecco E allora E allora E allora E allora Megaman che corre come Naruto Va bene E allora A questo punto No La strada è troppo lunga Per arrivare fino al boss Andiamo da questa parte Non posso neanche andare Lì c'è dello spazio Letteralmente Vediamo se riusciamo No Non posso neanche sbloccare quello Vediamo Sto vedendo un pochino Cosa fare Ci sono tipo 300 spiriti qua Vabbè Intanto facciamo una cosa Torno No Aspetta Da questa parte No No Anzi Facciamo una cosa Inizio a incamminarmi No Ah si 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 può Si può Dicevo Inizio a incamminarmi Verso il boss Va Però non faccio Faccio 2-3 sconte Spirito E poi basta per questa sera Ok Ah da questa parte Allora No E' me ne è andato Geronimo Troppo bello Ciao Ciao Anche a te Ciao Anche a te Ale Altro scontro con Megaman E poi facciamo un ultimo Con il capitano Oh aspetta Pensavo che fosse più Mmm No vabbè Allora facciamo una cosa Vediamo un pochino Dove ci porta Ma sapete che quasi quasi Vedo se riesco a fare anche il boss A questo punto Dai Ah non è che sarà il boss Sarà Che si entra nella Nel castello Vabbè Entriamo nel castello va Va benissimo Andiamo Sono pronto Pronti Via Olle Anche lui Anche Facciamo Ok Andato Ah evoluzione di Chan Lee Evoluzione di Chan Lee Dai 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 allora Vediamo un po' Ma devo fare io quindi Vediamo un attimo G6 spiriti Potenzia Chan Lee No Ah sei spiriti che possono evolvere Dai 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 Subito Mizzica Prevalu però Facciamo tornare Il nostro Cremico capitano Quindi un secondo Anche perché Ok Tra l'altro Ora che ci penso Se quello è un castello E quello è lì Si trova Dracula Come il boss Vuol dire che ci saranno Anche Simon e Richter Da sbloccare Ma famoslo Si Pronti Via Oi Geronimo No Ok Madonna Il fiore gigantesco No Aio No Aio No Non posso morire qua così No Aio No Ciao Volo benvenuto Anche questa sera E vabbè Console che verranno comunque ricordate così tanto per Qui potevo farlo tranquillamente da solo Ok Comunque il logo di Wii U Veramente sta Domina questo Da questa parte dello scenario Madonna non me ne ero mai accorto Prima Oi Ok 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 perfetto Prendiamo anche il car Oi Salute anche a te E questa volta Zero di danno Quindi questi tre scontri E poi si vede un secondo in castello E fine per la puntata di questa settimana Oh Giustamente Flygon con Ridley Scosto di terremoto Ah ecco per l'appunto Ma dove ci siamo? Sì va bene Poi Invece i calzi istantanei Dove sta quello per il terremoto? Dove è che sta? Non mi ricordo adesso Allora un attimo Ah vabbè Anche lui Va bene Quindi poi No 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 cos'è? No E purtroppo E purtroppo Non ho tutto il visto che Ahimè Non ho mai giocato Wind Waker Non ho tutto il riferimento per Per comprendere Perché ovviamente Ad esempio Mi ha fatto fare lo scontro Prima Contro tre personaggi di Fire Emblem Tutti che utilizzavano l'ascia E tutti interpretati da Simon giustamente Simon che bussava delle Tanti Simon che bussavano dell'ascia E tra l'altro Sempre lo scenario di Wii Sports Resource Però La zona del ponte La zona del ponte Quella che sta An un certo punto Sempre dello scenario Purtroppo Non avendo giocato certi titoli Eh Si Chiamatemi anche falso Nintendaro Vabbè Purtroppo Non avendo giocato Wind Waker Ad esempio Non posso cogliere tutto il riferimento Però è ovvio che Al momento che Tutta la battaglia si svolge In quella parte dello scenario Vuol dire Una Tra l'altro Una delle rene con Con lo scenario che si muove Cioè che ti muovi Sull'isola C'è un significato Purtroppo Non lo posso cogliere tutto Mannaggia a me A quando Vedi Waker Switch ragazzi A quando Fate il La combo con Twilight Princess E su Avanti No 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 Quello lo so War No Quello lo so Vabbè In realtà Qua non è che sia così tanto importante Mi sa Però Ma quello lo so War Cioè L'ho già visto Ne ho già bussato più e più volte Vabbè Andiamo avanti Sì Anche Skyward Sword Anche se quello dovrebbe essere fatto In maniera un po' più Importante Rispetto A portare roba come Wind Waker E Twilight Princess Anche su Switch Perché Per i controlli Omer Mi sono a vedere come Lo possono fare Perché Oh Ah Va bene No Cacchio Oh Ciao Ciao Ai E' riuscito No Ma no Ma no Ma che cacchio Mi stavo anche per rialzare io Ma maledetto Ridley Mamma mia Pronti Via Ah Ma avevo notato Perché inizio con 30 io Ok No Mi tieni però in vita E' bravo Ui No Grande Grande Capitano Sì Me ne sono accorto dopo però No Comunque grandioso Anche questo eliminato con Lanciando quella cacchio di pistola laser Va bene Ok Benissimo Fai long Giustamente Lucario Quindi un secondo Perché Ah Sì Buzz Buzz Ha 30% di danni in più Però più potenza Se non sbaglio No Niente più potenza Così a cacchio Va bene Quindi questo invece Vediamo un po' Ok I pugni e le gomitate Il nemico saranno più potenti I calci e le ginocchiate Il nemico saranno più potenti Incontri Modellità energia Riduce a 0 i PS Il nemico Ok Normale Quindi Facciamo Unità la caduta No Non c'entra Però facciamo una cosa qui Più Più energia Bacchetta di leap Ma se anche il lancio più Però ovviamente Uno che non mi tolga Ecco Ah Dai Su Scontro Facciamo uno scontro normale Questa volta Ah no Scusate un attimo Che stavo sbagliando Di brutto Chan Lee Iniziare A fare A livellare Chan Lee È voluta Via Ok Una cacchiata Vittoria Boom boom Il nemico avrà una super corazza Sarà più difficile lanciarle Farla andare sotto shock Il nemico ti infliggerà danni Scontrerà non si con te Aia Il nemico diventerà maxi Ai 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 Quindi Ok No Sì a parte questo Facciamo così Capitano non deludermi adesso Capitano non deludermi adesso Via 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 Ok Ok Va bene Perché Cioè Ha perso da solo eh Va bene Che era 50% Di danno Ma Ha perso da solo Si è lanciato a caso Quindi Un'occhiatena Un'occhiatena Ai È grande Il castello di lava è grande De Mario È di Mario praticamente Ah Beh Questo sì che è da fare Nella prossima puntata Si può terminare qua Per quest'oggi Abbiamo bloccato un bel po' di personaggi Tra cui anche il mio capitano 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 Domani Se tutto va bene Ci sarà La puntata Una delle due puntate speciali Dicate da Lonight E quelle per il postgame Dove magari Ricevendo aiuto di qualcuno Ciao world Dammi l'aiuto domani Ad esempio Si esplorerà un altro po' del gioco Per capire un pochino Quanto altro ci siamo persi A parte ovviamente La terza prova del Colosseo Che devo provare a fare Domani Proverò a fare anche quella Per il resto Grazie Grazie per tutti quelli Grazie a tutti quelli Che hanno visto Grazie a tutti che hanno partecipato E ci vediamo alla prossima E devo fare qualcosa Per questa tosse Che Nonostante tutto Nonostante mi sia passata A freddore Continua A Continua da bere E come dicevo Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti